L'amministrazione comunale di Erice, nella frazione di San Cusumano, ha individuato un'area di circa 5.000 metri quadrati e l'ha destinata ad area logistica per attività di protezione civile. Lo scopo di questa iniziativa, oltre a quello di poter utilizzare un'area altrimenti abbandonata, è quello di dotare l'ufficio comunale di protezione civile di un ulteriore ed efficace strumento di lavoro. Principalmente il sito sarà utilizzato come area temporanea per lo stazionamento di mezzi e di materiali, ma anche come area da utilizzare per attività di esercitazioni, ad esempio per il montaggio di tende, corsi di primo soccorso e perché no, anche come sede di centro operativo comunale. Non appena sarà utilizzabile anche il fabbricato annesso all'area. Allo stato attuale sono in corso dei lavori per la sistemazione, la pulizia ed il livellamento, mentre sono stati già collocati ben quattro moduli abitativi prefabbricati che presto saranno disponibili per un utilizzo in caso di emergenza. Il sindaco di Erice, dottor Ignazio Sanges, ha siglato un accordo con l'associazione di volontariato il soccorso, la quale conta di farne una sede operativa di addestramento e di formazione per i propri volontari. Tutte le attrezzature di cui disponiamo e che possono essere parcheggiate in quest'area verranno rese fruibili per un intervento più rapido e più veloce in caso di emergenza. Poi intenderemo utilizzare quest'area anche per lo svolgimento di attività di preparazione e di training, quindi per il montaggio delle tende, per lo svolgimento di esercitazioni pratiche, dei volontari, eccetera.